Ancora prima di arrivare a Marostica i visitatori resteranno incantati da una meravigliosa cinta muraria perfettamente conservata che idealmente abbraccia i suoi due castelli, il castello superiore nel monte Pausolino e il castello inferiore affacciato alla celebre piazza degli scacchi. Qui ci troviamo appunto nel castello inferiore detto anche castello da basso di origine scaligera che ospita il museo dei vestiti della partita a scacchi. Marostica è famosa nel mondo per la celebre partita a scacchi a personaggi viventi che viene messa in scena ogni secondo weekend di settembre degli anni pari nella famosa piazza a forma di scacchiera. La leggenda racconta che i due nobili marosticensi, Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, si innamorarono contemporaneamente della bella Leonora e per questa erano pronti a sfidarsi a duello. Il saggio padre, Taddeo Parisio, per evitare uno spargimento di sangue decise però che la figlia sarebbe andata in sposa a chi tra i due avesse vinto una partita a scacchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.